Ogni storia che riguarda l'Italia in Tunisia va valorizzata. Ogni storia che riguarda la cooperazione secolare tra i nostri due popoli va riscoperta e va divulgata. E questa è una storia che merita assolutamente di essere studiata, di essere analizzata e di essere rivalorizzata. Grazie a tutti. E anche noi si genovesi, soprattutto si ampigliesi, quindi abbiamo organizzato un bel tuffo nel passato e così ai concittadini presentiamo il casato l'unico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.